Dopo la pausa ferragostana, il Benevento riprenderà questo pomeriggio con gli allenamenti. L'esordio a Marassi contro la Sampdoria si avvicina sempre di più. L'appuntamento è fissato per domenica sera alle 20.45. Bisogna farsi trovare pronti all'esordio assoluto, ecco perché questi giorni di preparazione saranno importanti per capire su quali elementi il mister Barone potrà fare affidamento e su quali no. C'era apprensione per Costa e Ceravolo che hanno saltato la sfida col Perugia, rispettivamente per un problema alla schiena e all'inguine. I due giocatori però stanno facendo passi in avanti. Probabile che riescano a recuperare per la gara del Ferraris, anche se le riserve si scioglieranno sicuramente negli ultimi giorni. Questa è anche la settimana nella quale potrebbero arrivare dei volti nuovi. Gli acquisti richiesti e desiderati da mister Baroni per una questione di fisicità e numerica. Restano vive le piste con E.M. Muschai, ma in queste ore è spuntato anche il nome di Oscar Riliemark, centrocampista che negli anni si è diviso in Italia tra Palermo e Genoa. Una trattativa che potrebbe prendere corpo con consistenza nei prossimi giorni. In attesa che ciò possa concretizzarsi o sfumare per dare vite a nuove idee, la realtà parla di una gara da giocare a breve. Questa mattina, a tal proposito, è cominciata la pre-vendita per il settore ospiti del Marassi. Il costo è di 20 euro per il biglietto intero, 15 per donne e over 65, e 10 per i ragazzi nati negli anni tra il 2000 e il 2010. Per tutti quelli nati dal 1 gennaio 2011, l'ingresso sarà gratuito. Grazie a tutti.